Matteo Renzi a Milano tra applausi e contestazioni, all'Alcatel l'auto dello staff oggetto di lanci di uova di alcuni manifestanti, non temo le proteste, non mi fermano, ha detto Renzi che poi ha confermato le tensioni sul patto del Nazareno, sulle riforme siamo pronti ad andare avanti anche da soli, ha detto il Presidente del Consiglio, ad una cena con 800 invitati. E mentre sale la tensione tra Partito Democratico e Forza Italia sulla legge elettorale, in Parlamento prima fumata bianca su uno dei due giudici della consulta, passa Silvana Sciarra indicata dal Partito Democratico ed eletta con l'appoggio dei 5 Stelle che incassano l'elezione di Zaccaria al CSM, non passa il quorum, l'abbariati indicata invece da Forza Italia. Buffera sul Presidente della Commissione Europea Juncker, Premier per 18 anni in Lussemburgo, un'indagine giornalistica svela il sistema con cui nel Gran Ducato almeno 340 multinazionali, tra cui una trentina di aziende italiane, riesce a deludere il fisco nel proprio paese. L'ondata di maltempo si sposta soprattutto sul centro-sud, nubi fragili ed allagamenti in diverse regioni, tra cui Puglia e Sicilia, meno preoccupante del previsto la situazione di emergenza annunciata a Roma, situazione in via di miglioramento a Carrara. Buongiorno, dunque l'accordo tra il Premier Renzi e Silvio Berlusconi per fare le riforme vacilla, scricchiola, altro che se scricchiola le parole esatte, usate, scelte dal Presidente del Consiglio Renzi, che sembra così aprire ad una possibile nuova fase di dialogo con un altro fronte, quello del Movimento 5 Stelle. Renzi, ieri per tutta la giornata è stato a Milano, diversi incontri, ha accolto l'occasione per replicare anche alle contestazioni di piazza, alla sfida lanciata dall'Unione Europea ed anche alle richieste degli amministratori locali. Sentiamo. Volti noti di politici del PD e quelli meno conosciuti di imprenditori e professionisti. Erano in 800 ieri sera la cena milanese di finanziamento del Partito Democratico, da 1000 euro a partecipante. Ingressi blindati per entrare al ristorante The Mall, al diamantone, il grattacielo nella nuova zona residenziale di Milano. Ospite d'onore è Matteo Renzi, che arriva con più di un'ora di ritardo, parla per due ore di programma e dell'azione del governo, risponde alle domande. Alle ultime elezioni il PD ha preso il 41%, alcuni hanno detto vai ad elezioni, porta in Parlamento i tuoi amici e poi fai le riforme, dice il Premier ai commensali. E continua, noi abbiamo fatto una scelta diversa, investire il capitale del 41%, adesso ci giochiamo il tutto per tutto perché l'Italia si rimetta in moto. Renzi ricorda che per le riforme è necessario cercare il consenso delle opposizioni, ma a fine a un certo punto. Perché se qualcuno vuole bloccarle noi andiamo avanti da soli, dice il Premier. Alla platea degli imprenditori presenti, Renzi non chiede solo soldi, ma soprattutto idee, sostegno e anche critiche. Ma la giornata milanese del Premier era iniziata con la visita al campus dell'Alcat e in Lucent, a Vimercate. Fuori dalla multinazionale delle telecomunicazioni, la protesta degli operai coinvolti in un piano di ristrutturazione di quasi 600 lavoratori. Il lancio di uova contro le auto del suo staff, mentre Renzi entrava da un ingresso laterale. Non faccio il coniglio che scappa, dice poi Renzi durante il suo intervento, quando mi tirano le uova faccio le crepes. Parla ancora una volta dell'importanza dell'innovazione, lascia stare i gufi e tira fuori il calabrone. Nonostante il suo peso, ironizza Renzi, vola e qualche volta punge. Poi l'ennesima spallata a Bruxelles, proprio mentre cresce l'allarme nell'Eurozona. La UE esca dal recinto dorato della burocrazia, dice Renzi. Ma prima di andare all'assemblea del Lanci, il Premier ha incontrato gli operai dell'Alcatel. Ha rassicurato i sindaci, non sarà consentito che i tagli di costi decisi per le regioni possano ridurre i servizi dei comuni. E parlando con un ex collega sindaco, ironizza sui rapporti con Silvio Berlusconi. Un'apertura Forza Italia a fammela fare. Già c'è il patto del Nazareno che scricchiola, altro che scricchiola, dice Renzi. Allora, questo è il messaggio spedito appunto da Renzi a Silvio Berlusconi. Un avvertimento che arriva nei momenti o subito dopo quello che è successo in Parlamento, e cioè l'elezione di un giudice della consulta ed un membro del CSM, quelli di spettanza appunto parlamentare, risultato raggiunto con l'accordo tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Ed ora, tra l'altro, stamattina, lo avete appena sentito in rassegna, arriva anche un altro messaggio di apertura da parte del vicepresidente della Camera del Movimento 5 Stelle, Di Maio, che dice che siamo addirittura pronti a rifare un accordo del genere anche per l'eventuale elezione del Capo dello Stato. Alla ventunesima votazione, il Parlamento, in seduta comune, legge giudice costituzionale Silvana Sciarra, docente di diritto del lavoro, candidata indicata dal PD. 630 voti per lei che ottiene i consensi decisivi dei 5 Stelle, che vedono eletto al CSM il loro candidato Alessio Zaccaria, con 537 voti, 88 in più di quelli richiesti. È il risultato del patto tra PD e Grillini per sbloccare lo stallo sulle nomine alla consulta e al Consiglio Superiore della Magistratura, intesa che i pentastellati hanno fatto ratificare con una consultazione online. Per la prima volta nella storia, dalla rete alle istituzioni, il Movimento 5 Stelle sblocca il Parlamento, commenta Beppe Grillo. A non funzionare ancora una volta, invece, è l'intesa tra PD e Forza Italia sulla consulta. Stefania Bariatti, docente di diritto costituzionale, indicata dagli azzurri, si ferma a 493 voti, 80 in meno rispetto al quorum. Non l'hanno votata i Grillini, ma decisive sono state anche le assenze tra i forzisti, ben 45, un terzo dei parlamentari, il segno inequivocabile delle lacerazioni nel partito. Allora, Forza Italia che sembra perdere centralità nel campo decisivo, quello delle riforme costituzionali. Arrivano le reazioni, siamo leali ma non fessi, si ribella il capogruppo alla Camera Brunetta, ma l'intesa tra Partito Democratico e 5 Stelle non piace nemmeno agli alleati della maggioranza del nuovo centrodestra di Alfano. Sulla legge elettorale si va avanti anche senza Forza Italia, non perde il passo il ministro Boschi, forte del nuovo asse PD 5 Stelle, sperimentato sul vuoto per consulte CSM. Forza Italia ha il suo interno e divisa, Brunetta parla e dice che il suo partito non accetta più gli atteggiamenti totalitari di Renzi, mentre per Toti, se Renzi ha cambiato idea sul patto del Nazareno, lo deve dire, visto che ha già cambiato idea tante volte. Insomma, è allarme azzurro, mentre il ministro delle riforme Boschi si augura che sulla legge elettorale Forza Italia mantenga l'impegno preso a gennaio scorso. Ma l'out-out lanciato ieri da Renzi a Berlusconi pesa. Renzi si fida di quelli con le mani dipinte di nero, contesta in forma di domanda Gasparri, riferendosi alla protesta grillina della notte. Nunzia De Girolamo a sua volta incalza Maria Elena Boschi alla Camera. Ma il PD sta con Grillo, fa una domanda a doppio senso anche lei. Si aggiunge la minaccia, poi rientrata, delle dimissioni del capogruppo NCD Sacconi al Senato, in contrasto col voto di PD e Grillini su alcuni emendamenti della maggioranza sulla responsabilità civile dei magistrati. Per NCD il problema resta la soglia di sbarramento al 5%, proposta da Renzi a Berlusconi per compensare la richiesta sgradita a Forza Italia di un premio di maggioranza per la lista non più per la coalizione che arrivi al 40%. Ora Forza Italia aspetta le mosse di Berlusconi. Annullato causa maltempo la riunione dei gruppi e degli europarlamentari convocata per ieri alle 16. Se ne riparlerà la prossima settimana quando Renzi incontrerà la sua dimaggioranza. Sì, ma è lui che sta cambiando un atto parlamentare. La legge elettorale passata alla Camera è diversa dalla sua proposta di oggi, accusa ancora Gasparri, mentre Verdini difende a spada tratta il patto con Renzi. Controverbale a distanza con il premier Renzi, il neopresidente della Commissione Europea Juncker finisce nel mirino per il suo passato da primo ministro del Lussemburgo, un paese che, a sentire l'ultima inchiesta giornalistica che vedremo tra poco, un vero e proprio paradiso fiscale al centro d'Europa. E grazie al lavoro investigativo di un pool di 80 giornalisti di una trentina di testate internazionali che da ieri Jean-Claude Juncker, da soli sette giorni presidente della Commissione Europea, sta affrontando la sua vera prima crisi brussellese. Classe 1954, per 18 anni, primo ministro dello stato più piccolo dell'Unione, in Lussemburgo, Juncker ha guidato quello che viene comunemente considerato un paradiso fiscale, visto che non solo gode di una tassazione media del 17%, contro, per dire, il nostro 45%, ma perché da sempre ospita generosamente sedi legali e non di grandi aziende, multinazionali e società, che in Lussemburgo hanno la certezza di pagare una quantità di imposte decisamente più contenuta rispetto ai loro paesi. Non solo. Durante gli anni in cui Juncker era alla guida del Gran Ducato, sarebbero stati stipulati ben 458 accordi fiscali con una serie di società, 31 delle quali, fra l'altro, italiane, da Finmeccanica e Intesa San Paolo. Accordi che, dicevamo, hanno permesso a queste aziende di pagare a volte meno dell'1% delle imposte. Tutto legale, in termini tecnici, si chiama tax ruling, ma decisamente non compatibile con le regole europee. E così ecco Marine Le Pen chiedere subito le dimissioni del Presidente della Commissione, mentre il Presidente del Gruppo Socialista dell'Europarlamento, l'italiano Gianni Pittella, sottolinea come sia inammissibile che vi sia concorrenza sleale con la leva fiscale, perché, dice così, verrebbe meno tutta l'impalcatura su cui si reggono un mercato unico ed Europa. Juncker ieri ha annullato una conferenza stampa, ma per ora si dichiara sereno. Bruxelles però nel frattempo indagherà. Allora, qualche problema per Juncker che forse agevola il lavoro dall'altra parte di Mario Draghi, il numero uno della Banca Centrale Europea. 24 ore fa, alla vigilia di riunioni importanti in questo telegiornale, avevamo descritto Draghi come assediato dai falchi della austerità. Juncker tra questi. Allora, la linea sembra respinta da Draghi che comunque invece respinde, dice, non sono vere queste divisioni. Vediamo il servizio. Mario Draghi dice no. Dopo un consiglio direttivo, il Presidente della Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse al minimo storico. Nessuna emiezione di liquidità, almeno per ora. Solo la determinazione ad adottare ulteriori misure non convenzionali e il mandato a prepararle conferite allo staff della BCE, se necessario. Ma solo se il periodo di bassa inflazione dovesse persistere. Una decisione unanime, ribadisce Draghi, per smentire le tensioni con i falchi del Nord, il Presidente della Bundesbank Weinbank in testa, ostili alla politica monetaria di Draghi e alla sua gestione considerata poco collegiale. Intanto, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, Ocse, lancia un nuovo allarme. La zona euro sta rallentando fino a fermarsi e rappresenta un rischio per la crescita mondiale con la disoccupazione che resta alta e l'inflazione che resta persistentemente lontana dall'obiettivo. In altre parole, l'Eurozona è una bomba sulla strada della ripresa globale. A farla esplodere potrebbe bastare il protrarsi della spirale deflazione e stagnazione. Sotto esame, in particolare, Germania, Francia e Italia, le tre principali economie della moneta unica. E se al nostro paese l'Ocse concede un'apertura di credito nei confronti del Jobs Act, diffonde però previsioni raggelanti sul prodotto interno lordo, peggiori di quelle che due giorni fa aveva snocciolato la Commissione europea. Più 0,2% l'anno prossimo, più 1,1% nel 2016. Per il 2015 siamo davanti soltanto alla Russia, ma al netto delle sanzioni imposte a Mosca siamo il fanalino di coda. Ma l'Ocse guarda anche a Francoforte, alla Banca Centrale Europea, a cui insiste nel chiedere l'avvio del quantitative easing, l'acquisto cioè di titoli pubblici e privati per immettere liquidità nel sistema e scongiurare la deflazione. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto una procedura formale sullo scontro in corso interno alla Procura di Milano tra il Procuratore Capo Bruti Liberati e il suo vice Robledo. E ancora scontro all'interno della Procura di Milano tra il Procuratore Capo Bruti Liberati e l'aggiunto Alfredo Robledo e quest'oggi l'ultimo capitolo in una lettera al veleno schietta da Robledo ai colleghi magistrati poco prima dell'assemblea convocata dal Procuratore Capo Bruti Liberati per rilanciare così nelle intenzioni del Capo l'orgoglio della Procura. Abuso dei poteri atti illegittimi sbattuto all'ufficio esecuzione valuterò i modi della tutela della mia funzione scrive Robledo di 80 PM arrivano in 50 al quarto piano ufficialmente per parlare di una riorganizzazione dopo il provvedimento di revoca delle deleghe a Robledo del pool anticorruzione un provvedimento che non ha precedenti nella storia di questo ufficio attacca l'aggiunto e già severamente censurato e demolito dal consiglio giudiziario di Milano sbattuto all'esecuzione scrive appunto Robledo che si è rivolto anche al CSM che ha aperto una nuova pratica nella lettera Robledo spiega così perché non partecipa all'incontro non è un atteggiamento volutamente conflittuale non esiste uno scontro all'interno alla procura ma non si può più tacere e oggi l'ultimo capitolo dopo una lunga serie di ricorsi al consiglio superiore della magistratura partiti la scorsa primavera con la denuncia di Robledo per le irregolari assegnazioni di importanti inchieste giudiziarie poi la reazione di bruti liberati che contestava Robledo tra l'altro una gestione opaca di 170 milioni di euro sequestrati durante l'inchiesta sulla vendita di derivati al comune di Milano e si scopre anche che il capo della procura milanese ha segnalato al CSM al consiglio giudiziario di Milano che la moglie di Robledo lavora da un anno all'ufficio legale di Expo 2015 Robledo indagava su Expo non eravamo ancora sposati ribatte Robledo e mia moglie ha vinto regolarmente un bando poi l'affondo le iniziative assunte dal procuratore a mio giudizio sono state del tutto improprie valuterò i modi della tutela della mia funzione è l'annuncio che la resa dei conti non è ancora arrivata intanto Bruti ha deciso continuerà a guidare la procura fino al pensionamento alla fine del prossimo anno l'allarme maltempo la situazione rimane critica in tante regioni la perturbazione sembra spostarsi soprattutto verso il centro e il sud a Roma piove in modo intenso ma vengono riaperte le scuole dopo la chiusura di ieri scuole che rimangono chiuse invece in tanti comuni appunto del centro sud migliora la situazione a Carrara l'emergenza continua l'ondata di maltempo non lascia l'Italia temporali e pioggia intensa si sono abbattuti dal nord-est alla Sicilia orientale l'allarme in queste ore per i fiumi Po, Adige, Livenza gonfi d'acqua vengono continuamente monitorati ma è nell'estremo sud del paese che si accende ora il campanello di allarme scuole chiuse in tanti comuni dalla Calabria alla Sicilia già abbattuta nelle ultime 24 ore da pioggia intensa questa una tromba d'aria che ha colpito ieri Catania una macchina si salva per un soffio da un albero caduto la massima allerta invece lanciata ieri a Roma rimasta tutto il giorno con il fiato sospeso si è risolta con forti piogge grandinate intensi allagamenti che oramai si verificano già dal primo temporale la città era pronta al peggio con il prefetto Pecoraro che aveva ordinato la chiusura di scuole e siti archeologici e invitato i cittadini a non uscire di casa una città blindata come non mai ma la criticità si è prima rimandata di ora in ora e poi sgonfiata lasciando il posto a forti ingorghi stazione della metro chiuse per ore ma niente di più a Carrara invece 450 persone rimangono fuori di casa dopo l'ultima ennesima alluvione che ha colpito la città quando l'argine da poco costruito lungo il fiume Carrione ha ceduto alla piena il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha annunciato una commissione di inchiesta per individuare i colpevoli quell'argine accusato il governatore non era stato imbrigliato come previsto invece dal progetto l'argine di segnali d'allarme ne aveva mandati tanti con continue infiltrazioni d'acqua che i commercianti avevano già denunciato nei giorni passati prima di venire travolti dalla piena Rossi ha annunciato che dichiarerà presto lo stato di emergenza per poter utilizzare 140 milioni con criteri di estrema urgenza e realizzare 234 opere contro il rischio idrogeologico più di 600 militari americani sono stati esposti ad agenti chimici in Iraq fin dal 2003 lo rivela il New York Times dal Pentagono quasi 11 anni di silenzio ora parte delle verità sulla contaminazione dei suoi soldati in Iraq dal 2003 stanno dunque venendo fuori l'inchiesta del New York Times una lunga inchiesta costretto il Ministero della Difesa e probabilmente la Casa Bianca fare chiarezza sarebbero 600 infatti i militari che dal 2003 anno della seconda guerra del golfo sono rimasti contaminati da agenti chimici una vicenda sottovalutata dal pentagolo in ogni senso dopo le prime segnalazioni di militari esposti ai gas sarina e mostarda rinvenuti in depositi d'arsenali i generali americani avrebbero mal monitorato gli interessati ed il resto delle truppe impegnate in quella guerra e fornito trattamenti definiti insufficienti prima 17 poi 25 casi accertati in pochi mesi in questi anni a fronte di centinaia di segnalazioni da parte di altrettanti soggetti ora le cifre diffuse dal pentagono stesso che cerca di recuperare alla brutta figura fatta è iniziata o lo sarà a breve la ricerca da parte degli uffici sanitari e militari di tutti i veterani reduci di quel conflitto verrà attivato un numero verde per favorire il contatto ma lo scandalo lascerà strascichi nel tempo c'è da scommetterci si sospetta che le contaminazioni venute allo scoperto possono essere connesse con il ritrovamento da parte dei soldati americani di una fabbrica di armi dismesse in Iraq dove erano conservati però proiettili degradati risalenti agli anni 80 dal 2003 gli americani avrebbero rinvenuto oltre 5.000 trattestate proiettili per mortaio e bombe caricate con agenti chimici ritrovamento però tenuto segreto a lungo dai generali del pentagono la questione armi chimiche in Iraq riguarda poi anche il conflitto in corso con i tagliagole dello stato islamico a luglio infatti gli jihadisti presero il controllo della fabbrica di armi di Mutanna e con lei 40 kg di uranio un arsenale che secondo il New York Times era stato già scoperto dai Marines ma lasciato praticamente intatto con le notizie ci fermiamo qui vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il sito tgla7.it prossima edizione telegiornale alle 13.30 a seguire il telegiornale delle cronache adesso dopo la pubblicità le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona a seguire il dibattito di Omnibus conduce Andrea Pancani con le notizie di questo telegiornale lo abbiamo detto è tutto buon proseguimento di giornata grazie a tutti